In questa puntata, Sanità, la Toscana supera i 2 milioni di dosi di vaccino contro il Covid. Depurazione industriale, la proposta di legge che intende abrogare l'emendamento finito nell'inchiesta CEU. Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, nominati nuovi membri del Consiglio Direttivo. L'aggiornamento sulla campagna vaccinale in Commissione Sanità con il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni. Io lo dico con coerenza da ormai molto tempo. L'obiettivo, l'immunità di gregge, è raggiungerlo per il 30 settembre. Dico 30 settembre perché sono i giorni, quelli fra settembre e ottobre, che abbiamo visto l'anno scorso. Tendenzialmente, se non c'è il contrasto del vaccino, il virus tende a risalire. È un virus straordinariamente ciclico da un punto di vista stagionale. Se voi andate a vedere le tendenze dall'anno scorso a quest'anno, del virus che per la prima volta apparve a fine febbraio l'anno scorso, vi rendete conto che l'andamento è molto, molto, molto simile. La punta massima fu fra la fine di marzo e l'inizio di aprile. Vi fu una progressiva decadenza, una sostanziale scomparsa nel periodo estivo, un riacuirsi del processo di onda crescente dalla settimana che va dalla fine di settembre all'inizio di ottobre. Quindi l'immunità di gregge, per evitare che abbiamo quello che l'anno scorso fu la seconda ondata, non può che essere raggiunta in quel momento. Oggi la Toscana ha superato quello che è la metà delle prime vaccinazioni per una tendenziale immunità di gregge, perché siamo sopra il milione e 255 mila prime dosi. Ormai sta raggiungendo, mancano poche decine di migliaia di dosi, il tetto dei due milioni di dosi somministrate complessivamente, prime e seconde dosi. Quindi il percorso vaccinale sta subendo sempre più un'ascesa e un incremento. E devo dire che ringrazio i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, i volontari, che hanno consentito al nostro sistema delle hub pubbliche di superare ormai tendenzialmente le 30 mila dosi il giorno. Depurazione industriale Depurazione industriale, la proposta di legge che intende abrogare l'emendamento finito nell'inchiesta CEU. Il dispositivo illustrato dalla Presidente della Commissione Ambiente, Lucia De Robertis, è un atto a difesa di un sistema essenziale per la migliore compatibilità ambientale dei nostri principali distretti produttivi, ha detto, e per la funzionalità complessiva dello smaltimento delle acque in reflue in Toscana. Io non sono mai entrata in queste polemiche, sono Presidente della Commissione che ha dovuto esaminare questa proposta di legge che ci è arrivata dalla Giunta. Lo abbiamo fatto in due sedute, perché io ho ritenuto opportuno rinviare la prima volta, perché effettivamente le domande anche molto tecniche che venivano poste da alcuni commissari avevano bisogno di un chiarimento, perché poi, a prescindere da come uno vota, che è chiaramente libero di esprimere in sede di votazione, io comunque devo mettere tutti in condizione di capire. Questo è l'obbligo che io mi sono data, mettere i commissari nella condizione di esprimere al meglio la propria votazione, consapevoli di quello che votano e ho ritenuto durante la prima commissione che non ci fossero gli elementi di chiarezza, che invece con la presenza del Presidente Gianni, dell'Assessore Monni e dell'Avvocato Bora nella seconda seduta, davvero è stato chiarito tutti. La cancellazione di questo emendamento era un atto dovuto anche di fronte a tutti i toscani che da 40 giorni stanno ancora aspettando dalla maggioranza, dal Partito Democratico, locale e regionale, del perché si è fatto quella che oggi l'ex governatore Enrico Rossi ha definito una sciocchezza, in termini però un po' più enfatici, e soprattutto ha fatto rilevare ancora una volta, cosa che sarà oggetto probabilmente di un'ampia discussione, ma in altra sede, che sarà quella del Tribunale, del perché le stesse cose che erano state proposte e bocciate nel 2018 da pareri tecnici, sono state di nuovo riproposte nel 2020 con quello che a tutti gli effetti è sembrato essere uno stratagemma. Il dato politico di oggi non chiude assolutamente la vicenda perché c'è un'inchiesta che dice che quell'emendamento è ancora l'attenzione della magistratura e di chi ha anche altre competenze. Certo, rimaniamo basiti dall'assenza per ben due giorni del consigliere Pieroni che continua a non metterci la faccia su un problema che lui come primo firmatario ha provocato e abbiamo in discussione ribadito più volte che noi tutti siamo qui per condannare la mafia, ma dobbiamo anche fare in modo di non agevolare la mafia portando emendamenti che non sono per il bene dei cittadini ma che sono probabilmente per finalità personali, politiche che noi riteniamo inaccettabili. Noi come si ricorda quell'emendamento non l'abbiamo votato, arrivò in fondo, nessuno ha avuto all'epoca la premura di illustrarcelo e è stato inserito in quella legge che poi è stata impugnata. La Giunta ha provato a difendere la legge con delibera che dava, mandata l'Avvocatura, in quel senso e siamo arrivati ad oggi quando in realtà potevamo tranquillamente cancellarlo ieri, quell'articolo 13 bis. Qual è quindi il dato? Il dato è politico, il PD cerca di nascondere sotto il tappeto e magari di frenare una palla che vediamo scoppiata in questi giorni di spaccatura interna portando in aula questa legge. Ecco, questa legge poteva essere portata all'inizio della legislatura perché che l'emendamento non era legittimo e che quella legge è stata impugnata per quell'emendamento si sapeva fin dall'estate scorsa. Dal punto di vista amministrativo pensiamo di aver dato una risposta togliendo alla competenza della Corte la necessità di doversi pronunciare rispetto ad una parte della legge che così come era stata emendata rischiava, se la sentenza fosse avversa, di annullare un impianto normativo che è quello che consente di avere in Toscana gli impianti misti vale a dire quegli impianti che in maniera virtuosa trattano reflui degli smaltimenti delle aziende industriali insieme a quelli civili creando quindi un principio di economia circolare e portando dei benefici anche per quanto riguarda il risparmio nello smaltimento dei reflui civili. Quindi questo atto che abbiamo compiuto unanimemente oggi da un punto di vista amministrativo dovrebbe mettere al riparo la normativa esistente che è la normativa che ha consentito a partire dagli accordi del 2004 fatti tra la Regione, le istituzioni locali il Ministero dell'Ambiente e le aziende, in questo caso il distretto conciario di poter dare vita con investimenti pubblici e privati ad impianti di questo tipo che valgono per quel distretto come possono valere anche per altri distretti industriali. La vicenda non è chiusa oggi partono i lavori della Commissione d'inchiesta che speriamo faccia luce sui rapporti che ci sono stati che sono oggetto dell'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia si tratta di un sistema, quello dei rifiuti in Toscana che per certi versi si regge da un lato su un sistema particolare degli accordi di programma che derivano dai primi anni 2000 e dall'altra parte su tantissime deroghe di cui beneficiano anche tante troppe discariche. Questo è un sistema che va risolto perché chiaramente lascia aperti spazi alle infiltrazioni di chi offre i propri servigi che servono a smaltire più facilmente e con meno costi con naturalmente connivenze con la malavita organizzata. E questo non è più tollerabile perché la Toscana è una terra non soltanto di turismo ma anche di crescita e di sviluppo e deve garantire ai toscani benessere e non lasciare ai nostri figli un ambiente pieno zeppo di rifiuti sotterrati da tutte le parti. Ma innanzitutto che c'è bisogno di un chiaramento in casa PD perché abbiamo visto anche il segretario regionale Bonafè che ha detto convocherà una direzione per parlare dell'argomento. Finalmente si sono svegliati finalmente si sono resi conti di questa problematica e l'affronteranno internamente anche perché mi sembra che dalle dichiarazioni dell'ex presidente Rossi qualche cosa che non torna. Cioè innanzitutto noi dobbiamo ancora capire qual è stata la razza per cui quell'ammendamento è stato approvato perché ancora ad oggi non ce l'ha spiegato nessuno. Io oggi in aula come portavoce dell'opposizione ho chiesto che il presidente della commissione di inchiesta appena nominata la consigliera Elana Meini audisca per primo proprio l'ex presidente Rossi perché ci venga a spiegare le motivazioni della razza politica perché noi non vogliamo entrare nel merito dell'inchiesta ma vogliamo capire politicamente qual era la razza di quell'ammendamento. Poi sarà la magistratura a dire se quell'ammendamento l'ha scritto Pieroni l'ha scritto un privato l'ha scritto l'Andrangheta ma noi vogliamo capire politicamente qual era la razza di quell'ammendamento. In più c'è un fatto anche molto grave perché sembra che emerga una concezione un po' privatistica della cosa pubblica da parte del PD e in particolare da parte dell'ex presidente Rossi che oggi dichiara la stampa è il presidente Gianni mi doveva difendere mi doveva difendere in maniera più forte perché alla base del consenso grazie al quale lui è stato eletto c'è la giunta Rossi. Allora cos'è questa? Una concezione privatistica della cosa pubblica? Stiamo scherzando? Questo è il PD che governa oggi la regione toscana la regione toscana si merita oggi questo? E poi c'è un altro aspetto che il PD sta cercando di fare scarica varie dire sull'opposizione che è inaccettabile cioè il fatto di dire che noi stiamo sollevando la questione che questo porta negatività nel settore conciario e questo non è assolutamente vero perché loro governano loro governavano la scorsa legislatura e se oggi siamo qui ad abrogare l'emendamento è perché c'è un'indagine in corsa altrimenti quell'emendamento oggi non avremmo parlato e nessuno l'avrebbe più considerato questa è la verità quindi che non ci siano scariche a barile ma chi ha le responsabilità amministrative e questo è il PD perché governa questa regione da 50 anni ma in particolare era all'amministrazione del governo regionale quando è stato approvato l'emendamento ed è al governo regionale oggi e noi siamo stati favorevoli alla progazione di questo emendamento però che non ci vengano a dire che siamo noi che non vogliamo tutelare i lavoratori che non vogliamo tutelare il settore conciario a cui diamo un'importanza strategica fondamentale a livello toscano a livello italiano e a livello europeo e soprattutto alla tutela dell'ambiente nominati dal consiglio regionale i sette componenti del consiglio direttivo del parco regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli Abbiamo votato contro anche in rispetto di una petizione che ritenevamo giusta e che è stata fatta da molte persone il parco Migliarino San Rossore versa una situazione veramente molto critica e molti comuni cittadini e associazioni chiedevano che fossero fatte delle nomine di persone che avessero la necessaria esperienza e curriculum per cercare di tirarne di nuovo sulle sorti e abbiamo visto invece di curriculum eccellenti sicuramente ma non sotto i profili requisiti dell'ambiente e delle conoscenze del settore in particolare le due che vengono fatte dal consiglio regionale due persone sicuramente eccellenti sotto molti profili ma che non sembrano avere quell'esperienza che tutti noi compreso il Movimento 5 Stelle vorrebbe per questo ente che continua a versare in situazioni davvero molto critiche e che probabilmente avrebbe avuto bisogno appunto di quelle competenze specifiche che la cittadinanza in primis vuole incontro tra disegno e fotografia nell'ex manicomio di Volterra il progetto è di Massimo Gasperini Irene Taddei alla Biennale di Architettura di Venezia è un progetto artistico professionale nato fra la collaborazione mia quindi di fotografia e l'architetto Massimo Gasperini che si occupa di disegno è un connubio molto forte di analogie formali che vanno a raccontare quello che è l'architettura e il paesaggio in Italia e nel mondo il progetto Urbanology Pinocchio Architetto è un progetto nato per caso e come tutte le cose nate per caso quindi non premeditate non costruite ha avuto degli esiti positivi inattesi il progetto confluito adesso al Padiglione Italia accolto dal curatore Alessandro Melis sotto forma di un video avrà ulteriori sviluppi noi auspichiamo che possiamo portare questo progetto in mostra possiamo proporlo a livello trasversale coinvolgendo ovviamente anche altre esperienze artistiche questo è esattamente l'esempio di come la Toscana può fare bella mostra di sé è un modo per rappresentare la bellezza la qualità della nostra regione ringrazio l'architetto Gasperini e la fotografa Irene Taddei per questo lavoro che porta la Toscana all'interno della Biennale e che ha la capacità di saper rappresentare anche un'idea di futuro di come tenere insieme quello che è il racconto della nostra regione non è un caso che oltre la parola urbanologi ci sia anche Pinocchio Pinocchio è un simbolo della nostra Toscana e l'esempio di come la Toscana viene vista e rappresentata nel mondo di come la Toscana e la Toscana Grazie.